Inzaghi che cazzo fai Inzaghi che cazzo fai che cazzo fai Inzaghi che io ti difendo sempre non farmi tornare quello che ti massacra ogni volta cioè ma che cazzo Inzaghi 2 a 2 col Bologna in casa dopo che siamo andati in vantaggio 2 a 0 prima dei 15 minuti iniziali Cioè al tredicesimo stiamo 2 a 0 e questa partita finisce 2 a 2 ma non esiste ma non esiste Benvenuti monarchici assoluti iscrivetevi al canale anzitutto prima cliccate su iscriviti e poi sulla campanella su tutte mi raccomando Allora no 2 a 0 ragazzi non si può non esiste da 2 a 0 a 2 a 2 non esiste Oggi responsabilità pesanti del nostro allenatore Nessuno dica Inzaghi out ovviamente perché ci dobbiamo ricordare che il signor Simone Inzaghi ci ha portato in finale di Champions con i squadra 5 parametri 0 Ok e quindi questo va ricordato grande calcio tutto quello che volete però oggi Continua nel suo errore continua nel suo errore che è quello di non gestire bene le forze Io gli reputo questo come grande cruccio a Inzaghi Cioè dopo una partita come quella di Champions dove abbiamo corso 90 minuti Soprattutto nel secondo tempo prestazione straordinaria di tutti Erano spompati Ti presenti dei giorni dopo col Bologna neanche un cambio fai Neanche un cambio Ha messo gli stessi Ma è chiaro che non può mai rendere gente come Di Marco, Mkhitaryan Soprattutto Anche gli altri Ma Di Marco, Mkhitaryan si vedeva Si vedeva Perché non è gente che può giocare a quei livelli, a quei ritmi ogni tre giorni Mkhitaryan per una questione di età Di Marco per una questione fisica Ma anche gli altri Cioè Lautaro al di là del gol Si vedeva che era stanco Turam stesso Cialanoglu Barella Tutti Anche i difensori Il secondo gol è stanchezza Ma stanchezza anche mentale Perché il secondo gol che prendiamo poi ne parliamo È una roba che neanche in Serie B Ok? Ma è stanchezza mentale Quella lì si vede Non esiste perdere punti così Dopo che era andato in vantaggio Tu a zero fra l'altro Subito nel primo quarto d'ora Non esiste Infatti partiamo benissimo Partiamo benissimo Aggressivi Veloci Rapidi Però io lo sapevo Perché ragazzi Normale Se hai fatto una prestazione ad alta intensità 90 minuti In Champions League Tre giorni prima Tre giorni dopo Quanto potrei averne? 20 minuti Mezz'ora Poi cali Infatti così è stato Partiamo forte Comunque aggressivi Tutto Calcio d'angolo Gol di Acerbi 1 a 0 Benissimo Continuiamo Aggressività Recuperiamo palla alta Sulla nostra zona sinistra Scambio Turam Laudaro Laudaro Una gran botta da fuori 2 a 0 Uno pensa La partita Finisce 6 a 0 Invece no E invece no Perché poi Continuiamo ad attaccare Ma appena c'è l'episodio Basta L'Inter Finisce E questa cosa Col Bologna Ci è costato uno scudetto Dopo che prendemmo il gol del pareggio 1 a 1 Ornato Vi ricordate L'Inter smise di giocare Oggi abbiamo fatto la stessa cosa Perché su un calcio d'angolo per loro Lautaro Sbagliando Cintura Il giocatore del Bologna Ovviamente Di quelle cinturate in aria Ce ne sono 100 ogni partita La nostra viene punita Batte Orsolini Sommer l'aveva quasi presa Ma poi gli sfugge dalle mani 2 a 1 L'Inter lì ha smesso di giocare Ha smesso di giocare Ha smesso di attaccare Anzi Ha lasciato campo al Bologna Non voglio dire che loro sono stati pericolosi Però Comunque Noi abbiamo smesso di attaccare Turam Non chiamava più la profondità Lautaro Veniva anticipato Ogni palla Stasera quel Calafiori Sembrava Baresi Sembrava Una cosa incredibile Basta Cialanoglu Ha smesso di fare Un gioco rapido Di aperture Mighi Darian in campo passeggiava Di Marco Non ha messo un cross buono Che è stato uno Dunfriss Anche lui Pochi inserimenti Barella Continuava a correre per il campo Ma senza un filo logico Ok E i nostri tre dietro Non sono riusciti a impostare Nessuno dei tre Neanche bastoni Non si vedevano Impostazioni fatti bene Dai nostri E corso i ripari Secondo voi Inzaghi Neanche per sbaglio Neanche per sbaglio Iniziamo il secondo tempo Come abbiamo finito il primo Quindi Noi dal venticinquesimo Non siamo più esistiti Non abbiamo più attaccato Abbiamo passeggiato in campo Iniziamo il secondo tempo così Loro lancio lungo Palla dritta per dritta Su Ziegze Questo qui ragazzi Con un movimento Ne manda due al bar Cioè vedi Pavare e Acerbi Che vanno in diagonale Convinti che lui Si giri di lì per tirare Quello invece Si sposta di nuovo La palla Tira tranquillo Sommer anche lui Ha seguito l'idea Di Acerbi e Pavare Che avrebbe tirato Dall'altra parte a giro La palla entra L'MLM 2 a 2 C'è ancora tempo Per recuperarla Lì mette tre cambi Finalmente fa uscire Gli esterni Dunfliss e Di Marco Che si vedeva Che non avevano più Entrano quadrato Carlos Augusto Che ha avuto un impatto Super positivo Stava anche segnando E solo Mette lì Sanchez Allora lì L'ennesimo errore Per quanto Turam Non ne avesse più Era stanco Ma è comunque L'unico vero Attaccante fisico Che c'hai Visto che Arnautovic È infortunato Per due mesi Non puoi toglierlo Perché negli assalti finali Nel grande Marasma Dell'aria Chi la può mettere La palla in porta Togli Lautaro Turam e Dunfliss Se li togli tutti e due Sui cross Dell'assedio finale Chi la fa La pappina Infatti Ogni volta Che mettiamo un cross Non La palla era la loro La prendevano I loro difensori Quelli sono errori Che non esistono Caro Enzaki Perché tu lì Turam E Dunfliss Li devi lasciare Almeno uno dei due Vuoi togliere Dunfliss per quadrato Va bene Ma Turam lo devi lasciare Vuoi mettere Sanchez Giustissimo Sanchez Ma per Mkhitaryan E passi A una sorta Di 3-4-1-2 Perché lì La partita Tu la devi vincere Invece no Sanchez Turam E lì L'Inter si spegne Ancora di più Di quello che si è spesa Prima Di quello che si è spenta Prima Scusate In qualche modo Riusciamo a prendere L'assedio Ma non è efficace Tolto A una sporadica Occasione Dove quadrato Entra in aria Prova a tirare Tiro rimpallato Sul rimpallo Arriva Carrosso Augusto E poi C'è C'è il portiere Shulupski Che para E poi il gol Annullato a Sanchez Per fuorigioco Di una scarpa Però Il fuorigioco c'era Ma non esiste Non esiste Non fare Cambi Dopo tre giorni Di Champions Non è che un cambio Affatto E' chiaro Che la squadra A un certo punto Sarebbe calata E poi E' ovvio Che va in difficoltà E non esiste Togliere la fisicità Davanti Soprattutto Quando devi fare Gli assedi finali Uno fra Turam Ah Turam Deve stare sempre Probabilmente anche Dunflis Puoi mettere quadrato Lo metti in più Togli un difensore Ma non esiste Oggi La colpa Principale E' Dinzaghi Poi Anche i giocatori Fanno la loro parte Perché il secondo gol I difensori Tutti e tre Fanno un errore Incredibile Soprattutto Pavare e Acerbi Non esiste Che tutti e due Fanno lo stesso movimento E tutti e due Vengono mandati al bar Non esiste Ma quella è stanchezza mentale Oltre che fisica Stanchezza mentale Hai Darmian Hai De Frey Hai Bissek A centrocampo Avevi Klassen Frattesi alla fine è entrato Quindi vuol dire che Poteva fare anche lui Un po' di partita Hai Carlos Augusto Che ha avuto un impatto Super positivo Perché non devi cambiare Ma perché li devi spompare Ma non esiste Non esiste Quindi oggi La sbaglia Enzaghi Ragazzi Potete dirmi tutto quello che volete Oggi la sbaglia Simone Enzaghi Detto questo Restiamo più forti Ma lo dobbiamo dimostrare Perché noi siamo più forti Nel momento in cui Riusciamo A gestire La nostra energia Anche Ogni tre giorni Per fare questo Devono giocare Quelli forti Che stanno in panchina Perché se no Non sei più così Più forte degli altri Oggi io sono convinto Che anche tutte le altre squadre Che hanno giocato in Champions Avranno difficoltà Ma loro non hanno cambi di livello Come noi Noi sì E questo non può Non essere sfruttato E Enzaghi Non lo sta sfruttando Questa cosa Deve migliorare assolutamente Comunque mi raccomando Cari monarchici Dopo il video Faremo la live Post partita Seguitemi Che parleremo di tutto Il nostro solito Salute in latino Vide te mox